Utilizziamo oggi un encoder rotativo per creare un sistema che misura le distanze utili magari da mettere in qualche sistema tipo CNC o stampanti 3D. Iniziamo subito. Realizziamo oggi un sistema con un encoder rotativo quindi di quelli di tipo industriale che servono per andare a rilevare la velocità o lo spostamento di qualche apparato, di qualche dispositivo. Ho questo oggetto, allora io l'ho preso su ebay, si chiama LPD3806 ma basta un semplicissimo, un comune encoder rotativo che fornisce dei segnali in quadratura. Questo ha un'alimentazione, quindi va alimentato, avrà due fili, un rosso e un nero che usate per alimentare, io l'ho alimentato a 5V, solitamente arriva fino a 24V. Verificate, se lo alimentate con tensione superiore a 5V, che i segnali forniti non abbiano una tensione troppo alta. Da questo oggetto escono altri due fili, chiamati A e B. Questi fili portano il segnale di quadratura che permettono di capire come si sta muovendo il nostro albero. In questo modello in particolare le uscite sono ad open collector, quindi c'è un transistor scollegato e quindi non importa se qui alimento 24V, se di qui ho un micro, in particolare il mio Arduino, alimentato a 5V. Perché essendo open collector, qui dovremo andare a collegargli una resistenza di pull up e questa resistenza di pull up sarà collegata a 5V di Arduino, quindi non avremo un segnale pericoloso per il nostro Arduino. Si mette una resistenza da 10K oppure si possono usare le resistenze interne di pull up di Arduino. Andremo quindi a collegare il nostro encoder ai pin 2 e 3 di Arduino. Quindi vado a mettere questo B, lo portiamo sul 2, l'A, lo portiamo sul 3. Useremo poi le resistenze di pull up interne, non le segno qua. Per vedere il sistema che vogliamo andare a creare va a misurare lo spostamento, quindi ci darà una misura in millimetri. Immaginate che su cui si è montata una rotellina, come questa ruota ci dirà di quanto si sta spostando l'asse. Quindi ci servirà un display, uso il solito SSD 1306 collegato via I2C, quindi con SDA e SCL per visualizzare i dati. Visualizzeremo una misura in millimetri. Come faccio a dare questa misura? Io ho messo una costante e poi la modificate voi. Dovete andare a capire ogni passo che viene individuato dal vostro motore a quanti millimetri corrisponde. Dipende da dove lo montate e da che meccanica c'è applicata. Il mio display è un 128x32, alimentato anche lui con il ground e i 5V presi dall'Arduino. Poi per creare un sistema un pochino più, leggermente più complicato, sono andato a mettere due LED che vanno a segnarmi la situazione di fine corsa. Quindi LED con resistenza da 3,90, LED a piacere, ne ho messi due gialli. Questi qui li ho collegati sui pin 4 e 5. Quindi pin 4, pin 5 stessa cosa. Quindi un altro LED con resistenza da 3,90 collegato poi al ground. Quello sul 4 l'ho chiamato FC1 e quell'altro FC2 perché ho messo due limiti nel software. FC1 si accende quando sono a 0, FC2 quando raggiungo una misura preimpostata. Per esempio li ho messo a 2000 mm si accende. E poi un tasto di reset o di ohm. Serve per fare il reset e quindi a zerare il conteggio. Tasto di ohm l'ho collegato sul pin 6 come facciamo di solito con i pulsanti. Quindi un pulsante con resistenza di pull down 10k messa qua sul pin 6. Andiamo a vedere il funzionamento. Non è uno sketch particolarmente complicato se si esclude la parte di lettura dei segnali forniti dall'encoder. Perché dobbiamo usare delle interact. Non entro nei dettagli della spiegazione del sistema utilizzato perché l'ho fatto in un video precedente. Ci servono due pin quindi due e tre che sull'arduino 1 sono obbligatori perché sono i due pin che posso utilizzare per andare a generare delle internet. Quindi uso quei due pin lì. Vado a mettere qui delle costanti con define per i led fine corsa e eventualmente l'ohm in modo che se volete modificarlo vi viene più facile. Vado nel setup e preparo con pin modi vari pin quindi vado a mettere il mio encoder pin A mettiamo qui in collo. Ricordatevi questo è input underscore pull up. Se non fate così non funziona pull up a meno che avete messo la resistenza esterna. Copio due volte abbiamo A e B. Copio un'altra volta e adesso abbiamo invece le altre costanti quindi ho led fc1 led underscore fc1 questo è un'uscita output copio un'altra volta fc2 output poi abbiamo bt home che è l'ingresso del nostro pulsante bt underscore home mettiamo come input. Per poter utilizzare le interrupt usiamo attach interrupt qui dobbiamo dirgli il pin per il pin 2 dovrei mettere 0 poi metto la funzione do encoder A e poi change. 0 non ha molto senso quindi diciamo c'è un metodo migliore per fare questa cosa qua si può usare un metodo di servizio che si chiama digital pin to interrupt. Questo ci permette di usare direttamente il pin reale quindi si fa meno casino metto 2 quindi digital pin to interrupt 2 e sono a posto. Questo poi do encoder A è il metodo che chiameremo quando arriva un segnale sul pin 2 che segnale vogliamo monitorare ogni cambio di stato quindi metto change copio due volte questa cosa qua mettiamo qui sotto pin 3 do encoder A diventa do encoder B e sempre change. Ora dobbiamo andare giù vado in fondo e prepariamo queste due funzioni qua faccio void do encoder A apro e chiudo le tonde apro e chiudo le graffe inizio a farne una perché poi saranno molto simili tra di loro quindi la copieremo modificando i valori. Mi interessa andare a misurare una distanza praticamente questa distanza la ricaveremo da una variabile che chiamo pause che è quella che andremo a incrementare e decrementare ogni volta che ho uno scatto dell'encoder questa variabile pause 0 la metto qui deve essere di tipo volatile quindi volatile e la mettiamo long perché può avere dei valori anche elevati. In questo modo la possiamo modificare all'interno del event handler dei nostri interrump. Ora andiamo dentro due encoder A qui dobbiamo andare a intercettare quattro possibilità questo viene fatto sia sul encoder A che l'encoder B quindi sul pin 2 e sul pin 3. Come abbiamo visto l'altra volta devo andare a vedere come si presenta il segnale quindi vado a mettere un if else dentro l'if cosa metto? Vado a leggere lo stato del pin A quindi faremo digital read encoder pin A vado a vedere se questo è alto. Se questo è alto allora ho un fronte di salita e qui vado a vedere come è messo l'altro pin quindi mi copio questo if che è la parentesi me l'ha già messa Arduino quindi vado a vedere lo stato di encoder B. Se questo qua è lo allora andremo a incrementare pos faccio pos più più altrimenti else faccio pos meno meno. Nell'altro ramo sul fronte di discesa faremo l'opposto quindi vado a copiarmi questo if sul encoder pin B e faccio il contrario quindi se qui è I allora incremento oppure decremento. Facciamo lo stesso per due encoder B quindi mi copio tutto due encoder B e cambio tutte le lettere quindi qua diventa B e qui A. Qui però avremo allora qui il fronte di salita se ho un fronte di salita sul pin B e il segnale sul pin A è alto allora incremento altrimenti decremento. Altrimenti fronte di discesa se il segnale di qua è basso vado a incrementare pos oppure lo decremento. Quindi questo qua ci sistema il funzionamento dell'encoder. Per una spiegazione più dettagliata andate a vedervi il video 492. Ora andiamo a preparare tutto il resto del nostro sketch. Dobbiamo andare a includere tutte le librerie necessarie per far funzionare il nostro display OLED quindi mi metto in cima allo sketch e vado a includere le Adafruit GFX e SSD 1306. Probabilmente le GFX se non si disegna potete anche escluderle che vi risparmiano un po' di memoria. Noi andiamo solo di testo quindi fate voi la prova. Wire serve perché useremo l'i2c le librerie SSD 1306 le potete installare utilizzando il library manager l'abbiamo già usate parecchie volte. Il nostro display lo vado a istanziare qui sotto si chiama proprio Adafruit SSD 1306 lo chiamiamo display. Questo oggetto prende come parametri la misura quindi 128x32 gli passiamo and while quindi l'i2c e il pin di reset non avendolo mettiamo meno 1. Il nostro display è pronto. Passiamo nel setup dove lo inizializziamo quindi nel setup qui sotto andiamo a fare un controllo su display.begin e quindi passiamo il tipo di display e l'indirizzo. Il tipo di display è una costante che trovate negli esempi forniti da Adafruit e l'indirizzo è 0x3c. Questo per il mio controllate se effettivamente è così anche sul vostro. Questo metodo restituisce un true false. Se restituisce un false vuol dire che qualcosa è andato male. Allora in questo caso conviene bloccare magari lo sketch o far comparire un messaggio di errore. Ho un messaggio già pronto che va sulla serial. Lo vado a incollare qui sotto. Quindi SerialPint scrive LocationFade. Occhio che per usarla seriale bisogna fare così. Serial.begin9006. Se non volete usarla seriale non stampate niente mettete una luce o qualcosa che dà un'indicazione di errore. Per poi utilizzare il nostro display andiamo a impostare la dimensione del testo qui con SetTextSize. La metto pari a 2 in modo che il testo sia ben visibile. Se volete si può mettere l'imposizione del colore anche se immagino che sia già di default bianco. Quindi TextColor uguale White. Molti vanno a specificare anche il tipo di Charset. Quindi CP437 True. Anche qui non dovremmo avere sorprese. E poi si può preparare il display ripulendolo con ClearDisplay in modo che sia pronto per essere utilizzato. Noi vogliamo misurare una distanza. Quindi creo una float dist uguale 0.0. Come calcoliamo questa distanza? Mi metto qua nel loop. Nel loop ho valorizzato questo pause. Quindi usiamo pause che sono tick o click o impulsi. Lo trasformo in dist, in una distanza. Come faccio? Moltiplicandolo per una costante che dipende dal sistema in cui avete montato il vostro encoder. Quindi sta a voi fare qualche misura per ricavare questa misura di proporzionalità che vi permette di ricavare una distanza in millimetri. Io qui ho creato una costante Step2MM. Questa l'ho definita all'inizio dello sketch. Adesso andiamo a metterla. Me la copio. Andiamo qui sopra. Dove ho tutte queste define vado ad aggiungere anche questo float di Step2MM. Lo metto uguale 1.5. Così, giusto per avere un numero con la virgola. Ma non c'è nessun altro motivo. Questo farà la conversione. Cambiatelo a seconda delle vostre necessità. Poi definisco anche i due FC Limit. Cioè il fine corsa software che faranno accendere i LED. Il primo FC1 Limit lo metto uguale a 0 con la define. E il secondo lo mettiamo a 2000. Anche qui ve li metto con delle define in modo che li potete modificare. Torniamo giù nel nostro loop. Abbiamo calcolato la distanza. POS l'ho convertito forzatamente a float perché è un long in modo che posso avere la virgola. E dist quindi sarà un numero con virgola. Possiamo anche stamparlo sulla seriale. Fate voi. Allora io vado a creare un timer non bloccante per aggiornare il display. Creiamo due variabili. Unsigned long T1 e DT. Sono le due classiche variabili che usiamo per fare il timer non bloccante. Calcolo DT, la differenza di tempo tra millis e tempo corrente e T1. Se DT è maggiore di, mettiamo un 50 millisecondi. Lo aggiorniamo in modo abbastanza rapido questo display. Se DT è maggiore di 50 millisecondi andiamo a scrivere sul display. Prima di uscire, lo metto subito se no mi dimentico, mi riscrivo il tempo corrente in modo che il timer possa riscattare un'altra volta. Qui dentro cosa facciamo? Allora pulisco il display, vado a impostare il cursore con set cursor, lo metto in posizione 00 e andiamo a scrivere un testo. Che testo scriviamo? Mettiamo la distanza. Posso stampare subito con print, facciamo dist, vado a copiarmi un'altra volta print, subito di seguito, facendo così viene messo subito di lato senza bisogno di specificare l'indirizzo. Vado a mettere uno spazio mm, quindi in millimetri. Per visualizzare le informazioni devo fare display.display, aperta chiusa. Così scriviamo la distanza, ora dobbiamo aggiungere solo la parte di gestione dei fini corsi, quindi i led che si accendono e si spengono. Lo facciamo con degli if ho la mia distanza. Se distanza è minore uguale di fc1 underscore limit underscore mm, allora accenderemo il led. Metto anche less perché dobbiamo anche occuparci di spegnerlo. Quindi se la mia distanza diventa uguale a 0 o negativa, vado a accendere il led fc1, digital write di led underscore fc1, mettiamo i. È solo un'indicazione visiva, nient'altro, ok? Vi serve per capire se siete arrivati in fondo. Altrimenti lo mettiamo, lo spengo. Copio questo codice, lo faccio identico per il secondo fine corsa. Qui sarà maggiore, però se la distanza è maggiore o uguale di fc2 limit, allora vado a accendere fc2 oppure lo spengo. Quindi se supero il limite. Abbiamo poi il tasto di reset, questo qui è semplicissimo. If digital read del pin, abbiamo messo una costante, bt underscore home, quindi se premo il tasto di home o di azzeramento, vado a mettere pause uguale a 0 e resetto il tutto. Quindi questo qua è il nostro semplicissimo sketch, lo compiliamo, lo carichiamo. Vediamo se funziona. Ecco, ho sbagliato a scrivere. Ah, ok, io ho usato fc limit, mi sono dimenticato il mm. Ok, aggiungo mm, ricompilo, ora è tutto corretto, carichiamo e vediamo se funziona. Ecco qua, montato su Breber, il led fc1 è già acceso, lì vedete il display. Ora ruotando l'encoder, vedete che sale, la misura è molto sensibile. Quindi aumenta, 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 finché arriverò a 2000 e mi si accende il secondo fine corsa. È solo un'indicazione. Siamo a 1000, siamo un po' più decisi, ecco che si è acceso. Torna indietro, si spegne. Se volesse azzerare, preme il tasto, quindi lo riporto nella condizione iniziale. Quindi il nostro sistema con display, fine corsa e pulsante di on può essere utilizzato o installato su vari sistemi, sulle vostre macchine, su quello che desiderate, per misurare la distanza. Come vedete è molto reattivo, dipende anche dal tipo di encoder e vi permette di avere un feedback, cosa che la maggior parte, anzi la totalità delle stampanti 3D che si vedono in giro non hanno, quindi non c'è un feedback sulla posizione che permetterebbe anche di risolvere parecchi problemi, magari di slittamento. Vi lascio questo spunto, magari per creare nuove schede un pochino più funzionali. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani. Ciao!